Ferito da un colpo di fucile indagano i carabinieri, studente nisseno aggredito e picchiato a Caltanissetta da un gruppo di coetanei, controlli della polizia otto denunce, contrasto alla violenza di genere e firmato protocollo di intesa a Caltanissetta, bando per la provinciale 23, tratto Serra di Falco-Montedoro Ben trovati, ferito da un colpo di fucile un 37enne di Canicattì, adesso indagano i carabinieri Un uomo di 37 anni di Canicattì questa notte è finito all'ospedale Barone Lombardo per una ferita d'arma da fuoco E' stato raggiunto da un colpo di fucile alla schiena Dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, i medici hanno deciso di trasferirlo d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale civico di Palermo Il Canicattinese si trova adesso in gravi condizioni, in terapia intensiva ed è in prognosi riservata sulla vita Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Canicattì, che hanno subito comunicato il fatto alla procura di Agrigento Si attendono ulteriori sviluppi sul caso, non ancora chiaro Non si conosce infatti il luogo dove il 37enne è stato ferito e al momento neanche il motivo A quanto pare sia lo stesso 37enne, così come anche alcune persone sentite durante la notte dai carabinieri non sarebbero stati affatto collaborativi Studente nisseno aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei, il giovane ha riportato un trauma cranico Il suono della campanella, un quindicenne esce da liceo scientifico I dati del fenomeno del bullismo su scala nazionale raggiungono percentuali che fanno riflettere e se estese anche alle forme di cyberbullismo si arriva all'8,4% di giovani che ha subito episodi di cui 7,4% in modo occasionale e 1% in modo sistematico Il dato arriva al 7% invece di quei giovani che vestono i panni della guzzino prendendo parte attiva all'episodio di bullismo o cyberbullismo 6,1% in modo occasionale e 0,9% in modo sistematico Fenomeno quello del bullismo e del cyberbullismo che va monitorato, contrastato sin dalle aule scolastiche fino alle mura domestiche Controlli della Polizia di Stato a Caltanissetta 8 denunce durante i servizi di controllo del territorio 8 persone sono state denunciate ieri dalla Polizia di Stato nel corso del servizio di controllo del territorio Un sorvegliato speciale è stato denunciato dagli agendi per violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione cui si trova attualmente sottoposto Un arrestato domiciliare è stato denunciato per evasione poiché al controllo non è stato trovato in casa Due persone sono state denunciate per porto di armi ad oggetti atti ad offendere Il conducente di un'auto risultato positivo al drug test è stato denunciato per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti Un denunciato per atti persecutori, uno per maltrattamenti in famiglia e l'ultimo per furto in appartamento Contrasto alla violenza di genere è stato firmato un protocollo di intesa a Caltanissetta Nell'aula Magna Setta Livatino del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta è stato sottoscritto un protocollo di intesa per la prevenzione del contrasto della violenza di genere domestica attraverso la promozione e l'attualizzazione di programmi di recupero dei maltrattanti Iniziativa promossa dal Presidente delle Porte ad Appello Maria Grazia Vagliasindi presenti il Procuratore Generale Antonino Patti, il Presidente del Tribunale di Caltanissetta Gabriella Canto la Delegata del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta Emanuele Romeo il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta Salvatore De Luca il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari e il Questore di Enna Corrado Basile Con questo protocollo il primo in Italia di questo genere per le istituzioni firmatarie sarà prioritario intervenire dando tutti gli strumenti utili ad assicurare la prevenzione attraverso percorsi di recupero della vittima e del maltrattante in collaborazione con soggetti del volontariato Il protocollo è stato sottoscritto anche dai dirigenti, degli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello di Caltanissetta e dei Presidenti dei consorsi degli ordini degli avvocati di Caltanissetta e Neigela Parliamo adesso di viabilità Bando per la strada provinciale 23 nel tratto Serra di Falco-Monte d'Oro Schifani dice interveniamo per garantire massima sicurezza Prende il via la gara per i lavori finalizzati a rendere più sicuri i 15 chilometri della strada provinciale 23 nel Nisseno nel tratto Serra di Falco-Monte d'Oro è un intervento finanziato dalla struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico presieduto dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani che sottolinea la necessità di avere collegamenti funzionali e con i più alti standard di sicurezza Il nostro obiettivo, dice il Governatore è quello di utilizzare nel migliore dei modi le risorse finanziarie disponibili Il Dipartimento, guidato da Maurizio Croce ha pubblicato il bando con un importo di circa 2 milioni di euro e al quale si potrà partecipare presentando la domanda entro il 16 gennaio 2023 Si chiude così il cerchio su una vicenda che tanti disagi e rischi ha creato all'utenza del comprensorio in un versante problematico con pochi percorsi alternativi e nel quale si sono verificate negli ultimi 15 anni frane e cedimenti del terreno che hanno danneggiato in modo prevalente l'asse viario Le soluzioni tecniche individuate nel documento progettuale curato dall'amministrazione comunale di Montedoro consistono in opere di sostegno in quei tratti in cui si è registrato un sensibile abbassamento della carreggiata Sono previsti inoltre interventi di pulitura e la realizzazione di banchine con funzione di scarico delle acque piovane oltre all'abitumatura delle parti di strada ammalorate e il rifacimento della segnaletica Saranno infine costruite delle gabbionate per drenare le acque superficiali provenienti da monte e verrà ripristinato e ammodernato il piano viabile Dalla Dasti in un post sul profilo social fanno sapere che giovedì 8 festa dell'immacolata concezione il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta sarà garantito gli utenti potranno esporre regolarmente come previsto da calendario il centro comunale di raccolta e il centro di riuso resteranno chiusi mentre il servizio di isola ecologica mobile sarà sospeso Tutti i servizi riprenderanno regolarmente da venerdì 9 Parliamo adesso di Caro Bollette aiuti a famiglie e commercianti punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale che tornerà a riunirsi mercoledì 14 e martedì 20 Per i giorni 14 e 20 dicembre la conferenza dei capigruppo consigliari preseduta da Giovanni Magri ha indotto due riunioni del Consiglio Comunale per deliberare su 5 punti presenti all'ordine del giorno I primi 3 punti riguardano il riconoscimento del debito fuori bilancio dopo le sendenze della Corte d'Appello e del TAR di Palermo Il quarto punto prevede l'approvazione da parte del civico consesso del regolamento sulla partecipazione civica L'ultimo punto riguarda la mozione sugli aiuti alle famiglie e commercianti in difficoltà per far fronte al Caro Bollette Era in realtà il 7 novembre quando ho provveduto a depositare questa mozione che è stata calendarizzata in Consiglio Comunale solamente a dicembre è una mozione che mira ad impegnare l'amministrazione a stanziare fondi a proporre dei bandi finalizzati ad aiutare economicamente le famiglie più disagiate i piccoli commercianti e gli artigiani ho ritenuto opportuno e doveroso proporre questa mozione in considerazione del fatto che la congiuntura economica globale e soprattutto dell'Italia comporta la necessità che le istituzioni intervengano a favore dei propri cittadini 14 e 20 abbiamo la sessione di dicembre e noi lavoriamo appunto in sessioni quindi qualora dovessimo esploitare tutti i punti il 14 finiremo il 14 eventualmente già abbiamo la data del 20 Comunità energetiche un'interrogazione dei consiglieri comunali Petra Antoni e Bruzzaniti al sindaco Gambino I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Toti Petra Antoni e Gianluca Bruzzaniti in un'interrogazione indirizzata al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino parlano di comunità energetiche il cui obiettivo è di permettere alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità scrivono sia economici sia di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio le comunità energetiche, aggiungono, rappresentano un modello innovativo per la produzione e la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili sono costituite da un insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita in uno scambio tra pari puntando a ridurre lo spreco energetico e a condividere energia a un prezzo concorrenziale in tale contesto il ruolo del comune è centrale come soggetto che facilita la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini fanno riferimento poi all'approvazione dell'elenco relativo alle istanze ammissibili nell'ambito del programma di sostegno agli investimenti dei comuni della Sicilia al fine di promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso le comunità di energie rinnovabili e solidali ed in particolare al finanziamento ottenuto dal comune di Caltanissetta di poco più di 20.000 euro per l'esattezza 20.867,54 euro posto che il Consiglio Comunale non conosce il progetto che gli uffici hanno redatto e inviato alla Regione Sicilia per accedere alle linee di finanziamento precisano i consiglieri che all'emozione e gli impegni che la sisse consigliare può e deve suggerire e affidare all'amministrazione attiva ci sembra più responsabile e cogente intraprendere strade di sviluppo energetico precise e realizzabili in un momento di estremo bisogno considerato lo scenario socio-economico della nostra città interrogano la signoria vostra chiedendo di far conoscere il progetto inviato all'assessorato regionale di far conoscere tutte le azioni atte a creare uno o più comunità energetica nel comune di Caltanissetta si richiede e si legge in fine nel documento cortese risposta scritta nei termini di legge una risposta che verrà data in Consiglio Comunale così come ci fa sapere il primo cittadino contattato telefonicamente L'Università di Palermo e Catania dal Ministero arrivano fondi per 212 nuovi posti letto destinati a studenti fuori sede Sono in arrivo buone notizie per gli studenti universitari siciliani il Ministero dell'Università della Ricerca infatti ha stanziato per la Sicilia 6,8 milioni di euro per 212 nuovi posti letto per gli studenti fuori sede assistiti dagli enti ERSU, Palermo e Catania Si tratta del cofinanziamento del Ministero dell'Università attraverso un bando finanziato dal PNRR che assegna fondi per 46 interventi sul territorio nazionale ammessi al cofinanziamento per complessivi 150 milioni di euro Secondo il decreto firmato dal Ministro dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini a Palermo il cofinanziamento sarà di 4 milioni 482 mila 300 euro e consentirà agli studenti palermitani di usufruire di 48 nuovi posti letto nel centro storico e 96 posti nella zona di via P3 Per Catania invece il cofinanziamento sarà di 2 milioni 356 mila 200 euro per 68 nuovi posti letto in centro città Queste risorse, dice l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Mimmo Turano daranno l'infa vitale agli enti per il diritto allo studio siciliani per incrementare il numero di posti letto destinati agli studenti fuorisede Esprime soddisfazione anche il Presidente Ersu Palermo Giuseppe Di Miceli che sottolinea come l'Ersu Palermo grazie a questo importante risultato aumenti del 18% l'offerta di posti letto in favore dei fuorisede assistiti Da gennaio saranno così disponibili 944 posti letto a fronte degli 800 messi a disposizione con l'ultimo bando di concorso Questo risultato, dice, è solo l'inizio del percorso che abbiamo intrapreso insieme al Governo regionale e al nuovo assessore Turano E' un ottimo risultato anche per l'Ersu di Catania evidenza il Presidente Mario Cantarella Il cofinanziamento ottenuto dal Ministero dell'Università con il bando finanziato dal PNRR ha permesso di ottenere ben 2.356.200 euro che serviranno ad aumentare di 68 posti letto di ottima qualità in pieno centro di Catania Presentato a Palazzo Moncada il manifesto del nuovo Bauhaus Qui a Palazzo Moncada è stato presentato il manifesto del New European Bauhaus presenti il Sindaco Gambino che ha aperto l'incontro l'assessore alla cultura Marcella Natale l'assessore alla transizione ecologica Ettore Garozzo l'amministratore delegato di Dasty Rossella Pezzino de Geronimo il direttore dell'UEPE Rosanna Provenzano Giorgio De Cristoforo, Presidente di Casa Rosette dell'Istituto Superiore di Scienze dell'Educazione della Formazione Don Vincenzo Sorce e lo scultore Carlo Sillitti con il videomaker Alberto Foresta L'obiettivo è quello di far sì che tutte le scuole e tutta la comunità che si occupa di formazione e di istruzione adotti questo manifesto perché diventi proprio il nostro Vangelo il nostro pane quotidiano perché per cambiare la città per immaginare un nuovo modo di vivere abbiamo bisogno di credere in tre parole fondamentali che sono appunto bellezza, sostenibilità e inclusione Durante l'incontro a cui ha partecipato una notevole rappresentanza del mondo studentesco sia delle scuole superiori che dell'università e anche del terzo settore è stato proiettato il video Provide for Providence che è stato realizzato anche con il supporto delle attività da parte di Dasty anche questa volta contribuirà ad una futura iniziativa dal titolo Angeli dell'Ambiente Progetto Visionario Questo manifesto del progetto New European Bauhaus è assolutamente in linea con la nostra mission la mission di Dasty è proprio quello di seminare bellezza laddove per noi la bellezza è etica è abbraccio, inclusione, solidarietà onestà intellettuale è trasparenza amore per il prossimo per la natura quindi per l'altro quindi io sono assolutamente disponibile ed ecco perché sono stata chiamata proprio dall'assessore per poter dare il mio contributo e la mia esperienza maturata in tutti questi 40 anni proprio perché noi siamo un'impresa oltre che etica anche sostenibile quindi abbiamo un bilancio di sostenibilità e crediamo realmente che un imprenditore e un'impresa non possa oggi solo pensare al proprio utile e al proprio tornaconto personale ma diciamo restituire qualcosa alla comunità e quindi noi saremo assolutamente diciamo prontissimi a lavorare su Caltanissetta che si trova al centro della Sicilia e può essere veramente un ponte e può costituire veramente un ponte nei confronti dell'Europa proprio in ambito di sostenibilità Il nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità e accessibilità della città per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo cioè una serie di misure volte a sostenere la transizione ecologica e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 già nel gennaio 2020 la Commissione europea lanciò il progetto ambizioso del Green Deal e in prima linea fu proprio la Presidente Ursula von der Leyen a dichiarare agire ora per costruire un futuro più giusto sano e sostenibile per le generazioni future poi il progetto fu rilanciato nell'ottobre dello stesso anno con il New European Bauhaus un movimento creativo e interdisciplinare per ripensare le città come spazi di vita rendendoli più belli sostenibili e inclusivi un programma concreto per una nuova visione dell'Europa una storia di ispirazione che riguarda una giovane nissena si tratta di Eliana Miraglia il suo sogno è diventato realtà la musicista nissena con il suo violoncello accompagnerà le pop star più amate dal pubblico in un prossimo appuntamento televisivo a 27 anni Eliana e per seguire il suo sogno diventare una violoncellista ha lasciato che al tenissetta Gianni fa per arrivare in Israele e traguardare obiettivi professionali e di studio sarà tra i musicisti che accompagneranno delle pop star molto amate dal pubblico italiano a livello nazionale in un appuntamento televisivo a ridosso del Natale come primo violoncello dell'orchestra israeliana diretta del maestro Gian Piero Grani Il mio amore per la musica nasce all'età di 5 anni quando mi regalano una pianola a giocattolo e io mi innamoro pazzamente di quella pianolina non riesco più a farne a meno e mia mamma comincia ad avviarmi verso delle lezioni di pianoforte con la maestra Paola che saluto tanto e da lì in poi comincerò ad amare ad amare il pianoforte più di qualsiasi altra cosa Un sogno che parte da quando aveva 5 anni e inizi a studiare musica davanti i tasti bianchi e neri del pianoforte poi ho 11 anni il violoncello con la guida del maestro Vamid Pavlov primo violoncello del teatro Bellini di Catania dopo essersi laureata al programma internazionale di eccellenza dell'Accademia Watchman Meta dell'Università di Tel Aviv nella classe del virtuoso violoncellista Hillel Zori e del primo violoncello dell'orchestra filarmonica di Israele Emanuele Silvestri è stata titolare della borsa di studio per giovani virtuosi dell'Accademia dal 2018 al 2021 Anno Sofia Mutter che fin allora ascoltavo sui cd su youtube e sugli streaming online di musica quindi incontrarla dal vivo e suonarci insieme quella senz'altro è stata un'emozione straordinaria è un sogno che è diventato realtà Il grande amore per la musica da camera poi le masterclass premi riconoscimenti concorsi musicali oggi si esibisce in duo con i pianisti israeliani Raffaele Scorca Idan Stuntman e Yohan Nerel la sua carriera concertistica internazionale inizia molto presto le ha dato la possibilità di esibirsi sotto la direzione dei direttori tra i più influenti della nostra epoca come Lav Shani o Ivan Fischer o ancora Gianandreano Seda e molti altri oggi Eliana sta ultimando il suo perfezionamento con il master degree all'accademia di musica di Gerusalemme una delle tappe più importanti è senz'altro quella che mi consente di conoscere il mio maestro Vadim Pavlov e di studiare con lui di formarmi con lui di avere la possibilità di studiare il violoncello amare il violoncello e portarlo ad un livello tale da permettermi di continuare nella Accademia Internazionale di Zubinmeta a Tel Aviv Parliamo adesso della mostra Ulisse in Sicilia le visite guidate e gratuite per l'Immacolata iniziativa che sarà riproposta anche nelle giornate di Santo Stefano Capodanno e per l'Epifania Il lungo ponte della festa dell'Immacolata potrebbe essere l'occasione per visitare e conoscere le meraviglie della nostra regione da domani iniziano le visite guidate gratuite alla mostra Ulisse in Sicilia i luoghi del mito promossa dalla regione siciliana e organizzata dalla soprintendenza dei beni culturali di Caltanissetta all'interno dell'area di Bosco Littorio nel parco archeologico di Gela e si svolgeranno dalle 11 alle 17 l'iniziativa sarà riproposta il 26 dicembre per Santo Stefano l'1 gennaio a Capodanno e il 6 per l'Epifania le visite guidate evidenzia l'assessore regionale e beni culturali all'identità siciliana Elvira Amata sono un'interessante opportunità per avvicinare le famiglie e i giovani al museo il successo della mostra nei suoi oltre quattro mesi di apertura testimonia una grande curiosità e il desiderio della scoperta storica dobbiamo lavorare conclude su questa linea offrendo una narrazione nuova e curiosa che aiuti i più giovani a familiarizzare con i personaggi della nostra storia e della mitologia con circa 50.000 visitatori in poco più di tre mesi e una media di 500 presenze giornaliere Ulisse in Sicilia ai luoghi del mito si propone in una versione rinnovata rispetto alla prima inaugurata nel luglio scorso il nuovo percorso espositivo voluto dal Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana in seguito alla restituzione di alcuni pezzi prestati da vari musei propone ulteriori reperti che la rendono interessante anche per chi ha già visitato la mostra elemento centrale e cuore pulsante dell'esposizione resta la nave di Gela che gli archeologi hanno datato tra il sesto e il quinto secolo avanti Cristo rinvenuta nei fondali dinnanzi la costa di Bulala ed esposta al pubblico nella sede temporanea in attesa che vengano ultimati i lavori del nuovo museo un percorso fra reperti nuovi e inediti che accompagnano virtualmente il condottino il condottiero il condottiero cantato da Omero lungo il suo infinito viaggio verso Itaca per chi non riuscirà a partecipare alle visite sono disponibili audio guide in più lingue preparate da Copp Culture che ha gestito oltre all'apertura i servizi di accoglienza per gli alunni delle scuole di Gela inoltre di età compresa fra i 7 e i 14 anni è già in fase di svolgimento il ciclo di letture sfogliando il mare le avventure del re marinaio Ulisse a Caltanissetta si terrà musica a palazzo saranno previsti diversi appuntamenti il servizio torna anche quest'anno musica a palazzo la seconda edizione della manifestazione organizzata dal circolo Aclea PS Elio Vittorini ovvero il gruppo vocale Amoris Letizia sostenuta dall'Incourse Federation dal Ministero della Cultura e dal Comune di Caltanissetta aggiunge la sua seconda edizione due le giornate dedicata alla musica si comincerà il 9 dicembre con un concerto di tre cori alle 19.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli location concessa per l'evento dalla soprintendenza ai beni culturali di Caltanissetta questi cori di Appason Vocal Group Resonanza Camera Chorus e gruppo vocale Amoris Letizia faranno un concerto ognuno con il suo repertorio con le sue caratteristiche ma si uniranno per una nuova proposta corale sempre all'interno nello stesso concerto il 10 dicembre alle ore 19 presso la chiesa San Domenico invece si realizzerà la seconda e ultima giornata di questa seconda edizione avremo l'opportunità di poter vedere per la prima volta il docufilm che stiamo realizzando con il gruppo vocale per la regia di Toto Pellegrino riguardo Gian Domenico Martoretta compositore del XVI secolo a Caltanissetta la famiglia di Moncada e la nostra città ha visto un coinvolgimento enorme da parte di alcune professoresse come la professoressa Rosanna Zaffuto Rovello la professoressa Marina Castiglione la professoressa Maria Antonella Balsano per la ricerca e l'approfondimento di questo compositore sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista musicale grazie all'Erso di Palermo abbiamo potuto ammirare le meraviglie anche del Chiostro di San Domenico che vedrete all'interno di questo documentario e si potranno notare altri posti noti della città che raccontano sempre della famiglia dei Moncada successivamente sempre nella stessa serata lancieremo la prima edizione del concorso internazionale per compositori musica a palazzo che vedrà lo suo svolgimento nel 2023 durante la terza edizione del festival musica a palazzo e per ultimo lasciamo lo spazio più importante alla rassegna corale che vedrà la partecipazione di numerose realtà corali del territorio ma anche da posti molto più lontani l'iniziativa si svolgerà anche grazie alla collaborazione del Movi e dell'associazione Alchimia quest'ultima infatti aprirà contemporaneamente la quinta edizione della manifestazione il casino della città tra storia letteratura e territorio con il primo dei tre appuntamenti previsti e cioè la presentazione sempre il 10 dicembre del volume Il taccuino di Bonn di Luigi Pirandello A Montedoro è stato realizzato un albero di Natale interamente all'uncinetto dalle mani laboriose di un gruppo di donne del posto L'opera verrà inaugurata in piazza leggiamo in una nota mediante l'accensione delle luci giovedì 8 dicembre alle 20 e 30 subito dopo la processione un'idea partita da Emilia Licata che si è poi facilmente estesa a tante donne appassionate di uncinetto che hanno prestato volontariamente il loro contributo per realizzare quella che è diventata una vera e propria opera d'arte impiegata anche una struttura metallica realizzata e messa a disposizione dal fabbro Salvatore Mantione l'albero resterà in piazza fino al 7 gennaio Parliamo adesso delle emozioni mondiali famiglie magrebine in piazza anche donne e bambini che si sono uniti ai caroselli in città per gridare forza Marocco La vittoria del Marocco tutti in piazza a festeggiare quali sono le tue emozioni? È un'emozione grandissima grandissima sono troppo felice me l'aspettavo sapevo c'è il Marocco del cuore vaga dai Viare d'Italia è corso Umberto in festa tutto uno sventolare di bandiere e suoni di claxon molte le famiglie le giovani e i giovani magrebini che insieme alle bambine e bambini si sono riversati sulle strade il sorriso la gioia per la squadra di calcio le emozioni di Dalila 19 anni che a Caltanissetta vive con la sua famiglia un grande sorriso gli occhi pieni di emozione sono molte le ragazze presenti chi indossa il velo chi no ma sono unite ed in festa molte hanno sul volto la bandiera del Marocco ed insieme ad amiche amici e fratelli padri e madri condividono il momento il più piccolo tra i bambini sulle scale della chiesa di Sant'Agata ci mostra fiero lo stema della sua squadra del cuore mentre la sorrellina indossa la bandiera sulle spalle come un mantello la storia il Marocco la scrive anche così non solo per i risultati calcistici ma anche per quelli multiculturali in una città dell'estremo sud come Caltanissetta dove il percorso è ancora in salita ma è fatto di sorrisi e occhi pieni di gioia a Caltanissetta la comunità marocchina in festa per la vittoria sulla Spagna ai mondiali di calcio ci sono voluti 120 minuti con annessi supplementari e poi la classica roulette dei calci di rigore ma il gol dell'ex interista Achimi tutto il Marocco è scoppiato in festa per l'approdo ai quarti di finale della Coppa del Mondo anche a Caltanissetta è scoppiata incontenibile la festa dopo il rigore decisivo che ha battuto la Spagna con tutta la comunità marocchina che si è riversata in piazza Garibaldi e per le vie del centro con bandiere sciarpe e magliettine al grido di forza Marocco sono infatti tanti i marocchini presenti in città che hanno festeggiato l'impresa della squadra nordafricana che adesso se la vedranno con il portogallo di Cristiano Ronaldo vincerà il mondiale di sicuro il mondiale per il Marocco quest'anno la prendiamo Un nuovo progetto Erasmus è appena decollato all'istituto Luigi Russo di Caltanissetta si tratta di un partenariato che vede coinvolte ben 5 nazioni Polonia Lituania Turchia Grecia e Italia impegnate per un biennio nello studio dei cambiamenti climatici per insegnare agli studenti e alle famiglie i comportamenti da adottare per la protezione dell'ambiente si legge così in una nota che il progetto prevede che tutte le terze classi degli indirizzi grafico e biosanitario svolgano attività in abito scientifico e in lingua inglese Questa sera torna Pedipedi su TFN appuntamento imperdibile alle 21 Questa sera alle ore 21 su TFN nuovo appuntamento con Pedipedi vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda Amici di Pedipedi ciao a tutti come vedete o piove o c'è il sole Onevica io e l'inossidabile Gianluca che vi faccio vedere siamo sempre in giro per farvi scoprire le cose belle della nostra città i personaggi le storie e chi più ha più ne mette i luoghi allora Gianluca siamo pronti? faccio pronti prontissimi lo sai perché oggi Gianlu Gianlu oggi incontriamo un grande artista ma non sto scherzando raga quando dico un grande artista è veramente un grande artista si chiama Leonardo è già uno che si chiama Leonardo che può fare può essere solo un grande artista vediamo Leonardo Leonardone ciao Roberto eh sì Leonardo Pumbo ragazzi un grande artista di seno molti allora aspetta va bene allora intanto giusto magari per quei pochi che dicono ma que giusto allora sicuramente in città l'avete visto adesso scorreranno anche le immagini queste sculture che vedrete sicuramente qualcuno dirà ah vedi ma chi l'ha fatta l'ha fatta lui ok quindi stiamo parlando di un nisseno che ha fatto tante cose da piano piano ce ne racconterà e noi camminiamo camminiamo così e lui piano piano ci racconta perché dovete sapere che intanto è reduce è reduce di una bella esperienza in australia che non è necessario non è sicuramente dietro l'angolo è che domani andiamo in australia allora parlacene dai allora l'australia praticamente è l'ultima tappa più lontana a cui sono arrivato perché fino a due anni fa sono arrivato fino al giappone ecco attenzione cioè le opere di leonardo un nisseno sono anche in giappone sì è bene sì questa edizione del nostro telegiornale termina qui vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità rimanete con noi un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di giovedì festa dell'immacolata al tempo sull'Italia andrà cambiando per l'avvicinarsi di questa perturbazione atlantica che tende a muoversi verso il nostro paese nella seconda parte del giorno una perturbazione alimentata da fredde correnti artiche in discesa dal nord Europa vediamo più in dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra un'Italia le prese con le nuvole in particolare al centro sui versanti tierranici ma poi tra pomeriggio e sera la nuvolosità aumenterà sensibilmente anche al nord per l'avvicinarsi di questo peggioramento un occhio anche alle precipitazioni allo zoom delle piogge che infatti mostra già qualche fenomeno sui settori tierranici ma sarà soprattutto tra il tardo pomeriggio e la serata che le vere precipitazioni faranno il loro ingresso sulle regioni del nord ma anche sull'alto versante tierranico con piogge e nevicate sulle Alpi più nel dettaglio quindi dell'Italia avremo una giornata nel complesso ancora solleggiata al sud sulla Sardegna la Sicilia seppur con qualche piovasco sui versanti tierranici tra la Campania all'interno Toscana e l'Umbria poi andrà peggiorando nell'arco del giorno come dicevo sulle regioni del nord Italia dove in mattinata comunque avremo una mattinata ancora abbastanza uggiosa in pianura per nebbie e nuvole basse ma poi con piogge che giungeranno dal tardo pomeriggio in serata sulla Val Padana e nevicate sulle Alpi a partire da quote di fondo valle nel corso della serata clima che resta particolarmente freddo invernale al nord punte anche di 18-20 gradi sulla Sicilia Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trabi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Eufrate Viale Stefano Candura Servizio notturno Buonasera Via Edmondo De Amicis Buonasera 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 Buonasera